Io inizierei con una poesiola che si chiama SS Sessa Solfa e più o meno fa così La solita depressione che mi butta giù, non ci credo più, non ci credo più La solita fissazione che mi tiene su, piango solo e tu, piango solo e tu La solita mia visione che mi butta giù, guardo la tv, guardo la tv La solita mia visione che mi butta giù Dovrei vivere di cibo senza semi tutto l'anno, dovrei mungere le mucche mentre gli altri già lo fanno Dovrei vincere milioni di milioni all'enalotto, dovrei fare limitazioni sia di Gianni che Pinotto Dovrei nascere in un ceto di borghese intellettuali, dovrei leggere romange e consultare i quotidiani Dovrei scrivere di cose che la gente dopo piange ed invece mi ritrovo schizzi dentro le mutande La solita depressione che mi butta giù, non ci credo più, non ci credo più Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare Questo qua è un raccontino che sta nell'antologia pregarica e costa un euro Quanto un biglietto del Cotral Compratela Compratela, perché noi facciamola molto E si chiama Paolo il Caldo E fa parte di una raccolta che si chiama 80 racconti di bontà in olio d'oliva Si chiama... Che non si sa quando esce Paolo il Caldo Quello Paolo non è che è timido, solo che gioca parecchio su sto fatto della dimidenza Che così si pensa che anch'iappa di più Ma mo Paolo c'ha quasi 40 anni, ancora si convince della tecnica dell'S Timothy o funziona Ma alla fine si ritrova che si fa le pippette davanti ai porno di youtube.com O peggio ancora, chiama qualche prostituta cinese Che le cinese e le giapponesi hanno un rapporto qualità-prezzo maggiore Nel mercato delle prostitute le cinesi sono come i film pezzottati napoletani per i DVD Costano un cazzo e la qualità è alta Allora Paolo si è convinto che lui c'ha la ragazza Che il suo ragionamento è Tanto che io se avessi avuto una fidanzata l'avrei dovuta portare a cena fuori Ogni tanto un regalino Alla fine spendi quei 30-35 euro a settimana Che così lui ce va a cinesi È il ragionamento un po' del cazzo secondo me Ma contento lui contenti tutti, soprattutto il popolo cinese Considerando poi che la cinese di cui si è invaguito è sua cugina di secondo grado La cosa è buona perché ogni tanto lei gli fa lo sconto Lei è carina proprio Carina, carina, carina 22 anni, mora Belle tettine sode Fisico di chi scopa almeno queste uomini al giorno Se fa chiamare Lilli Come Lilli è il vagabondo ma senza il vagabondo Secondo Paolo Lei si è innamorata di lui Perché dice che gli fa il bocchino senza preservativo Io non è che sono un po' convinto di sta cosa Insomma pure mi madre fa il bocchino A mio padre senza preservativo Ma mica si ama Finito Quest'altra si chiama Io sono Superman E' la terza volta che indosso la maglietta nera con le bacchette da batterista incrociate Vado al bar sotto l'ufficio che stava in calo di caffeina nelle vene e non riuscivo a connette più Insomma dovevo scrivere la scena dove la prostituta dichiara il suo amore al cliente bello del film Una scena di un'intensità che nemmeno i fratelli italiani mentre fanno la cacca Insomma vado al bar e il barista mi fa Ma tu sei il batterista di Massimo? Io non pensavo stesse dicendo a me Io ero con gli occhi nel portamonietto A fianco a me c'estava un rumeno Allora ho pensato che stesse dicendo a lui Non che i rumeni sono famosi per essere i batteristi di Massimo Però boh Alzo gli occhi e vedo il barista che attende una risposta E il rumeno che mi guarda come se aspettasse pure questa risposta Forse gli serve un batterista tutti e due Insomma era il giorno che pare che sui quotidiani C'era scritto che la crisi era finita E ora la notizia più importante era diventata sapere se io ero o non ero il batterista di Massimo Purtroppo te li usi le loro aspettative rispondendo No, non sono nemmeno un batterista Il rumeno si vedeva che gli fregava niente Il barista un po' c'era rimasto male Però alla fine aspettava solo gli 80 centesimi del caffè Il giorno dopo mi sono messo la maglietta blu con la S di Superman Però il barista non mi ha chiesto se ero Superman Allora gli ho chiesto un caffè senza creptonite Questa qua è dedicata ai punk Da non confondere con i punk E questo si chiama il problema dei punk I problemi adolescenziali mi distruggono i genitali Le notizie telegiornali mi dan coli che renali E l'uccidere animali Noi che siamo vegetariani e impieghi interinali Sembrano dolori mestruali I problemi di noi punk sono solo barzellette I problemi di noi punk sono finti come tette I problemi di noi punk non sono certo le bollette I problemi di noi punk sono le magliette strette E se viaggio con il Trump fingo che so di Amsterdam E se viaggio con il bus faccio finta che ho l'Ictus E se viaggio in treno merci sono francese di commerci E se viaggio in Eurostar non mi tocca che scappare E se viaggio in Intercity faccio finta che ho la Tisi E se viaggio a tutte l'ora e tiro un pugno al controllore E se viaggio in man beccato faccio finta che ho bevuto E se viaggio in treno letto io non pagherò il biglietto Il problema di noi punk è vestite trasandato Il problema di noi punk è soltanto questo stato Il problema di noi punk è sto libero mercato Il problema di noi punk è sapere che hai fumato Il problema di noi punk è distruggere ogni idea Il problema di noi punk è quante lontanali che ha Il problema di noi punk non si rizza, prova, lecca Il problema di noi punk non fa niente, tanto è secca e concludiamo con un altro raccontino sempre di tanta grame di bontà in olio d'oliva si chiama la coppia perfetta parla di una coppia parla di Alex non è Alex Pietro Giacomi Alex Alex suda ma suda in una maniera abominevole è come una fontanella che gocciola in continuazione quando cammina lascia le pedate sull'asfalto come se fosse appena uscito da un tuffo in piscina una cosa singolare direi si cambia in media 8 volte al giorno i vestiti ed estate poi arriva pure a 12 va al lavoro che è già sudato e si deve rifare la doccia il fatto è che però non puzza ma il problema suo è che beve l'acqua in realtà non si capisce se lui beve perché suda o suda perché beve è un dilemma che nemmeno il suo medico gli ha saputo rispondere il medico di famiglia gli ha detto che ne posso sapere io tu per caso sai se è nato primo luogo con la gallina è un circolo vizioso perché se non beve si è disidrata ma se beve spelle dal corpo i liquidi lui appena beve invece di pisciare suda lui non piscia mai Alex non piscia mai lui se cerne liquido dai pori della pelle il pisello lo usa solo per godere Alex preferisce fare l'amore nella vasca da bagno si è fatto infatti la Yaguzzi grande che usa con la sua ragazza per farci l'amore lei si chiama Olivia e fa dei peti portentosi che però non puzzano non puzzano sono solo rumorosi sono una coppia perfetta sono innamorati e nella Yaguzzi Alex e Olivia scopano da Dio tanto lui suda ma non se ne accorge nessuno lei scorregge ma tanto c'è stato idromassaggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti